cordiali saluti Antonino Venezia ok ora che faccio? ma che fa Claudia? meno male che lei era una troia le ha fatte il tatuaggio le ha comprata la borsetta nuova meno male che il gatto a te non piace no? io solo i cani solo gatti non ne voglio infatti lo vedo ma di cani in quella casa ce ne sono abbastanza cagna, cagna maledetta e ti fai un sacco di foto con Giulio che cazzo è questo Giulio? studio presso Harvard University immagino, porca troia diplomata all'università della vita frequenta scuola della strada ma tanto questo che ha più di me? cioè dico a parte l'iPhone 7 cosa ha più di me? vabbè è la Maserati, dico cosa ha più di me? è gli addominali, cioè cos'è? gli occhi belli? ma c'è il cellulare in tasca? c'ha il cellulare nel costume ma il cellulare nel costume c'ha ma c'è il cellulare in tasca e il cellulare in mano ma quanti telefoni c'ha? ah non è? forse è il te vabbè dico a parte la minchia enorme cosa ha più di me? ah studiato per diventare pompiere? tanto è chi se ne frega chi se ne frega che tanto io sto bene così sto bene così pompiere paura non ne ha il pompiere sto bene così sto bene sto bene così ti prego guarda vabbè lei? ciao scusa non ho più il tuo numero chi sei? puttana ciao